Il mio Twitter più seguiti in Italia Il mio umilissimo per la giornata TV Cosa ha detto stasera? Sera c'è solo delusione però sappiamo che si è arrivati un po' a questa la sconfitta la sconfitta si sta l'hashtag della sconfitta ci sta 940 carattere grazie mille ciao a te